Signore e signori E' ora il momento della consegna della maglia rosa destinata al vincitore della centunesima edizione della Giro d'Italia. Signore e signori, gli applausi sono per una portacoloni del Team Sky, Chris Froome! A premiare Chris Froome saranno Virginia Raggi, sindaca di Roma, Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS Media Group e Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel. Il rosa, il rosa della leggenda, il rosa della gloria, il rosa della vittoria, sulle spalle di questo straordinario corridore che arriva dal Regno Unito e difende i colori del Team Sky. Signore e signori, il vincitore di questa centunesima edizione della Giro d'Italia, prepariamo l'applauso per Chris Froome! Ed ora, signore e signori, in onore del vincitore, verrà suonato l'inno nazionale del Regno Unito. Grazie a tutti! Chris Froome! Team Sky è lui il vincitore della centunesima edizione del Giro d'Italia! Ed ora, signore e signori, amici del ciclismo, amici dello sport, siamo pronti a festeggiare questo straordinario podio. Intanto, vi chiedo l'applauso per Chris Froome, per Tommy Moulin, per Miguel Angel Lopez! E il cielo di Roma si colora di rosa! Ed è il momento del Brindisi! E che Brindisi! Sotto un cielo azzurro, incredibile, impagabile, il podio ufficiale di questo Giro d'Italia! Chris Froome, Don Di Moulin, Miguel Angel Lopez!